Villa Simius si trova nel sud-est della Sardegna. Villa Simius is in the south east of Sardegna, Italy. È una località ben conosciuta per le sue meravigliose spiagge. It is a place well-known for its beautiful beaches. Ma com'è Villa Simius di sera? Cosa puoi fare qui? But what is Villa Simius like in the evening? What things can you do here? Villa Simius di sera si trasforma e diventa un ottimo luogo dove passare una bella serata. La via principale, ovvero la via del mare, diventa una bella area pedonale. Villa Simius si trasforma in the evening and becomes an excellent place to spend a nice evening. The main street, via del mare, becomes a beautiful pedestrian area. Puoi venire qui per cenare in uno dei bei ristoranti o per stuzzicare qualcosa di più veloce, sia di salato che di dolce. You can come here to dine in one of the nice restaurants or to taste something quicker, both salty and sweet. Ci sono anche diversi bar dove puoi prendere un drink dopo cena. There are also several bars where you can have an after dinner drink. Durante la tua passeggiata è possibile che incontri anche degli artisti in strada. During your work, you may also meet some street performers. Ma il vero intrattenimento qui è probabilmente lo shopping. Ma il vero intrattenimento qui è probabilmente lo shopping. In una delle bancarelle poste sulla strada, in one of the street stores, oppure in uno dei negozi del centro o in one of the shops in the center, che si tratti di semplici souvenir, bit simple souvenirs, libri, books, costumi da bagno, swimsuits, o bei vestiti, o nice clothes. Scusate, ma ora sono impegnata anch'io con lo shopping. Sorry, but now I'm busy shopping too. Ciao, ci vediamo alla prossima. Bye, see you next time. Bye, see you next time.